Il Ponte Valleceppi non si ferma più, sua pure la semifinale di andata di Coppa Italia, 1-0 di misura siglato da De Julis e poi protetto con organizzazione e intelligenza. Giù in casa la Ducato Spoleto al quarto cappò in fila e fresca di cambio in panchina. L'esordio di Ezio Brevi però è rimandato, direzione a Stella che vare il 4-2-3-1 senza cola e con Giuliacci in panchina. Dentro Moretti, Tornamenti, Cardarelli, vertice d'attacco, mentre il Ponte Valleceppi lascia a riposo soltanto Urbanelli. Davanti a tutti nel 4-3-3 c'è Regnicoli con Cancellotti e Polidoro ai lati ma all'inizio è dei padroni di casa. Al quindicesimo Romani innesca da dietro Massonica, avanza e prepara il sinistro, Biscarini si allunga. Poi al diciassettesimo il portiere ospite vede la palla tagliata da Cavitolo che gli sfila sotto gli occhi senza che nessun avversario raccolga l'invito. Il Ponte Valleceppi abbozza e al primo colpo passa. La punizione dal limite invitante De Julis la disegna tesa alla sinistra di Carzetti. E' 1-0 Ponte Valleceppi. La Ducato Spoleto che nel frattempo ha perso Tomassoni accusa il colpo e prova a rispondere. Al quarantesimo Pazzogna prova l'acrobazia da corner, la difesa fa muro in prossimità della riga di porta. A riposo gli ospiti chiudono in vantaggio. Stella inizia la ripresa con Giugliacci per Zeppatore e Piantoni di rottata a destra. Il primo acuto però è Pontegiano ancora di De Julis che al quinto minuto parte slalom prolungato e prova il destro. L'Isarelli inserisce pure Urbanelli per l'autore del gol De Julis al dodicesimo e l'ex Foligno prova il colpo a sorpresa al ventiduesimo. Non succede molto anche perché dietro al Ponte Valleceppi non sbaglia niente. Al quarantasettesimo l'ultimo tentativo Ducato con Capitolo che calcia in bocca a Biscarini. Finale 1-0 tra due settimane e ritorno. Mister Stella, punizione di De Julis, vantaggio Ponte Valleceppi, lì si mette in salita. Sì, il periodo è questo. In questo momento un'occasione in gol. Era un attimo che abbiamo preso le misure sulla partita, abbiamo creato due belle occasioni da gol. Una clamorosa con Moretti che a pochi passi dalla riga non la buttava dentro. Sapevo che loro è una squadra quadrata che gioca in modo, basta vedere i gol che hanno preso, tutti dietro alla linea della palla. C'era una difesa ermetica, non hanno fatto passare una spilla in tutta la partita. Però dobbiamo sfruttare al massimo, avevo detto ai ragazzi, le poche occasioni che ci concedevano. Ne hanno concesse due o tre e non siamo riusciti a sfruttarle. Purtroppo il momento è questo. Mister Lisarelli, altro grande risultato del Ponte Valleceppi? Ma è il primo tempo di questa partita che si gioca sui 180 minuti. Era importante ovviamente uscire con un risultato che ci tenesse comunque vivi per il ritorno. Siamo riusciti anche a far gol, è importante. Però comunque la partita è ancora apertissima perché come sebbene loro sono una squadra che soprattutto davanti ha tantissima qualità. Quindi al ritorno ancora è apertissima. Abbiamo, se possiamo dire, un 51% in più di probabilità. Ce lo giochiamo, siamo contenti di questo. Ci dà fiducia anche per domenica perché poi ci ritrova in questa situazione in cui ci ritroviamo anche domenica a giocare contro. Quindi diciamo che non ci sono vantaggi né per l'uno né per l'altro sotto questo punto di vista.